Musica Benvenuti al TG10, oggi l'apertura del telegiornale la dedichiamo alla pagina sportiva, il Gela Calcio ha vinto il torneo di eccellenza ed è ritornato in serie D. Si tratta della quinta promozione di seguito, ieri è festa allo stadio Vincenzo Vresti, stracolmo di tifosi, la vittoria del torneo è stata dedicata allo scomparso Carmelo Tuccio, fratello del presidente del club, apoteosi bianco-azzurra anche in piazza Umberto I con caroselli di auto e bandiere al vento. Dio benedica Gela, è uno degli scatti più belli e significativi, era scritto su un lenzuolo bianco mostrato dal portiere Daniele Pandolfo, sì perché in effetti l'aiuto deve giungere dall'alto, sulla terra, anzi sul terreno di gioco ci hanno già pensato loro, i giocatori che indossano la maglia bianca-azzurra. Il Gela ha conquistato la quinta promozione di seguito ed è approdato in serie D. Una cavalcata trionfale, un giusto riconoscimento ad una squadra che ci ha sempre creduto anche in periodi neri. Finalmente Gela e il Gela ritornano nel calcio che conta. Dopo anni di purgatorio, ricordiamo che si è ripartiti dalla terza categoria, il club bianco-azzurro di strada ne ha fatta tantissima ed ieri, poco dopo le 17.45, si è brindato al salto di categoria. Lo striscione dei tifosi era eloquente per questa curva che c'è sempre stata, vinci e continua la scalata. Pubblico ieri delle grandi occasioni al Presti, stadio pieno in ogni ordine di posto, col Cus Palermo non c'è stata storia, 4-0 e promozione in serie D. Due gol per tempo, al 13esimo Nassi, al 26esimo Mincica, poi nella ripresa, terzo sigillo di Alma e al 36esimo altra rete del bomber Nassi. E a fine partita è esplosa la gioia e il primo pensiero è stato per Carmelo Tuccio, fratello del Presidente, scomparso prematuramente il mese scorso. La dedica che abbiamo fatto dell'intero campionato a mio fratello Carmelo sia una cosa naturale, è una vittoria della sua serenità, della sua gioia per la vita. E credo che lui ci stia aiutando parecchio da questo punto di vista, perché era una persona importante per tutti noi e il Gela Calcio era una delle sue creature e lo sarà per sempre. Il Gela ha dimostrato di essere una squadra di categoria superiore, penso che questa cavalcata l'ha dimostrato facendo un buon calcio, andando a vincere lungo e largo la partita fuori casa che magari se abbiamo avuto qualche difficoltà poi ci siamo ricompattati e sono molto felice, veramente una cosa impressionante. Quale regalo chiederà ora al Presidente Duzzo? La riconferma? Intanto ci guardiamo questo meritato reposo e poi in questo momento non ci penso più. A lei piacerebbe rimanere sulla panchina del Gela? Penso di sì, è una piazza importante, è una piazza che sinceramente ti fa provare delle emozioni incredibili, un'adrenalina importante, sono molto felice di rimanere qua. L'apoteosi dei tifosi è interessato anche Piazza Umberto I, caroselli di auto, bandiera al vento, il salotto della città si è colorato di bianco-azzurro. Gela riparte dalla Serie D, l'obiettivo è quello di ritornare in Lega Pro. Intanto godiamoci la festa. Ed entusiasmo tra i giocatori bianco-azzurri al triplice fischio entusiasmo che ha contagiato anche noi. È un giorno di festa, l'abbiamo atteso tanto a lungo questo giorno, oggi finalmente è arrivato, siamo felicissimi che sia accaduto. Eravamo sicuri di raggiungere questo obiettivo, l'abbiamo dimostrato oggi. Abbio per sé la terza promozione consecutiva, abbiamo detto non c'è due senza tre, poi? La fame di vittorie è indescrivibile, quindi ogni anno ripartiremo sempre con più voglia e più carica. Oggi è stata una giornata indimenticabile. Questa vittoria della squadra, del campionato, tu in particolar modo a chi la dedichi? La dedico alla mia famiglia e la dedico a chi quest'anno ci ha lasciato e non è potuto stare oggi qui a sostenerci. Abbiamo Inter, ma cosa credevate? Che giocavamo così tanto per giocare? Io ho fatto tante partite nei professionisti, tante in B, ma questo è il campionato più bello in assoluto che ho vinto, che ho giocato da protagonista. Io ci tenevo troppo, troppo a questa maglia, a questi tifosi, alla gente, a tutti. Questo è il campionato più bello in assoluto. Sono veramente felice, felice per aver raggiunto un traguardo così importante, sofferto, perché è stata una vittoria del campionato sofferto sin dall'inizio e credo che è stata oggi l'esplosione di gioia di tutti quanti. E più volte tu hai ripetuto che vincere con la maglia del Gela per te ha un significato più importante. Per quale motivo? Intanto perché è un pubblico meraviglioso e l'abbiamo visto oggi perché in eccellenza veramente c'è un pubblico così importante. Per me era una grande scommessa venire a vincere qui a Gela e non era facile e ci sono riuscito. Quindi per me è un motivo d'orgoglio anche vincerlo da capitano. Voglio dedicare anche questa vittoria a tutti i tifosi niscemesi che oggi erano veramente in tanti. Quindi abbiamo fatto questa unione e credo ci ha portato a questo splendido traguardo storico. Abbiamo fatto una cosa straordinaria insieme, tutti quanti insieme, tra società, giocatori, allenatori, tutti quanti componenti che ci hanno dato una mano a fare questo, quello che abbiamo concluso finora, la vittoria del campionato. E i complimenti alla Gela Calcio giungono anche dall'amministrazione comunale, la dirigenza del club biancazzurro in lacrime per la conquista della serie D. Dedico tutto quello che abbiamo fatto a Carmelo Tuccio e tutta la città di Gela, solo questo. Una squadra che ha meritato, dirige il campionato. Ma sì, direi di sì, dai, fino all'ultimo l'abbiamo dimostrato con una prova di grande carattere. Carmelo Tuccio lo voglio tanto bene e lo stimo e lo amo, veramente, te lo dedico tutto. È bello perché alla fine abbiamo dimostrato di essere un tutt'uno. Grazie a Tuccio e grazie a tutti voi per questa grande soddisfazione. Forza Gela! Non ce l'aspettavamo perché eravamo più forti, veramente, dai. Se l'abbiamo dimostrato in campo in tutte le partite, tranne per qualche piccolo problema che abbiamo fatto all'inizio, ma poi per il resto. Si vede l'unione della città anche per quanto riguarda degli eventi belli e importanti come quello dello sport. Credo che sia di buon auspicio, perché questo è un passo per migliorare, per avere un futuro più roseo, anche con il calcio. Dobbiamo lavorare anche in altri settori, però questo è un buon auspicio. Il tifoso ama la propria città? Assolutamente sì, anzi. Devo dire che lo dimostra anche nelle manifestazioni evidenti. I gelesi, quando vogliono, fanno sinergia, fanno squadra, emergono, si sfidano, superano le sfide e si possono anche affermare. Questa è la linea di pensiero e questo è quello che dobbiamo condurre per cercare di far uscire Gela dalla situazione di embassa attuale. Quale significato ha la promozione del Gela in Sledi? È un significato importante per tutta la città perché ci dà un senso di identità e di appartenenza e ci inorgoglisce dell'appartenenza a questa città e a questa bellissima realtà territoriale. Chiudiamo la pagina dedicata alla promozione del Gela, parliamo del referendum sulle trivelle che non ha raggiunto il quorum. I votanti si sono fermati al 32,15% con i sì che sfiorano l'80% e no al 20%. Soltanto Sciacca, grosso centro della Grigentino, supera in Sicilia il quorum con il 53% degli elettori andati ieri alle urne. Nell'isola affluenza molto bassa con il 28% degli elettori che si sono recati a votare. Di questi il 92,54% ha votato sì e solo il 7,46% ha votato no. A Gela sono stati 9,112 colori quali hanno votato, gli eventi di diritto lo ricordiamo, erano 60,5%. Hanno votato, ha votato dunque il 15,18%, l'affluenza più bassa in tutta la provincia. Questi i risultati definitivi, votanti maschi 4.721, femmine 4.391, voti validi sì 7.809, no 1.215, schede bianche 38 e schede nulle 50. La pagina della cronaca giudiziaria è stata manettata dai carabinieri di Gela in esecuzione di mandato d'arresto europeo emesso dal tribunale di Darsmat in Germania. Era ricercato dal giugno del 2015 perché era riconosciuto colpevole dei reati di furto, truffe e minacce nei confronti della moglie. Destinatario del provvedimento restrittivo è un operario giulese di 41 anni. Secondo l'accusa, l'uomo ha sottratto ingenti somme di denaro alla consorte, privandola dell'auto in comproprietà e stipulando diversi contratti telefonici a suo carico, il tutto corredato da messaggi minatori. Il giulese è stato rintracciato dai carabinieri a seguito di una segnalazione pervenuta dal servizio di cooperazione internazionale delle forze di polizia ed infine tradotto presso la casa circondariale di Contrada Balate a disposizione dell'autorità giudiziaria. E adesso parliamo delle compensazioni Eni. Il Partito Democratico di Gela sollecita la predisposizione di relativi progetti per dare spazio alle aziende locali. Sentiamo al microfono di Fabiola Polara il capogruppo consigliare Enzo Cirignotta. Cirignotta, torniamo a parlare dei 32 milioni di euro di compensazione. Voi avete in mente una possibilità che è quella di poter stralciare una somma, sebbene minima, ma che potrebbe già dare una boccata d'ossigeno all'economia in sofferenza ormai da torpo tempo di Gela. Sì, in vista dell'incontro al Ministero sul protocollo chiederemo all'amministrazione comunale ufficialmente di farsi promotore di un'iniziativa per chiedere all'Eni di anticipare e stracciare una parte delle compensazioni, circa un terzo, riteniamo che possono essere sufficienti, per avviare nel più breve tempo possibile nella nostra città tre interventi che penso sono condivisibili da parte di tutta la cittadinanza, cioè quella della riqualificazione del portorifugio, la riqualificazione della seconda parte del lungomare e la realizzazione di un pianto per il trattamento del refluio da utilizzare poi in agricoltura. Inoltre voi tra le priorità tenete conto anche dei soggetti che sono ormai fuori dal mercato del lavoro e che difficilmente potrebbero trovare una ricollocazione? Sì, riteniamo che i cantieri che devono essere avviati con somme delle compensazioni, quindi che sono previste all'interno del protocollo, tanto debbano seguire delle procedure burocratiche quando più breve possibile per accelerare proprio l'avvio dei lavori, per dare lavoro alla nostra città. E poi non dimentichiamoci che sono di somme previste all'interno del protocollo d'intesa e bisogna tener conto sicuramente per quanto riguarda l'utilizzo della manodopera di tutti quei lavoratori che hanno lavorato per anni all'interno dell'indotto e che hanno perso lavoro e quindi non hanno come un reddito sufficiente per portare avanti il sostenimento delle proprie famiglie. Per fare chiarezza, Cilignotta, quali potrebbero essere i tempi per ipotizzare un avvio di questi lavori con l'utilizzo di questa quota parte delle compensazioni? Le autorizzazioni sulla bioraffineria sono state rilasciate. Il protocollo dice che in base allo stato di avanzamento del protocollo d'intesa poi l'Ene avrebbe messo a disposizione le somme della compensazione e quindi poiché i lavori della bioraffineria stanno per iniziare riteniamo che entro un breve tempo si possono mettere a disposizione queste somme della città per essere spese per dare un abboccato di ossigeno alla nostra economia. Passa un'altra nave carica di turisti ma anche questa non si fermerà al porto di Gela la rotta è stata segnata verso Marsala è lì infatti che la regione siciliana ha autorizzato la nascita di un nuovo porto e il finanziamento dovrebbe essere privato ma i bene informati sostengono che sul progetto di Marsala verranno dirottati i fondi per le grandi opere che dovevano servire per i nuovi porti somme che potevano essere utilizzate in presenza di progetti esecutivi e Marsala al contrario di Gela avrebbe tutte le carte in regola la denuncia arriva dal comitato per il porto del golfo di Gela e dal comitato dei pescatori che parlano di un nuovo scippo perpetrato ai danni della città anche perché ci sarebbe il rischio che quei fondi non spesi potrebbero tornare alla comunità europea così mentre Gela ancora attende i pareri del ministero dell'ambiente e del ministero dei beni culturali per rendere il progetto esecutivo Marsala avrà il porto turistico un investimento di 50 milioni di euro i cui lavori potrebbero iniziare addirittura entro quest'anno rabbia ed indignazione dunque tra i componenti del comitato per il porto di Gela ed il comitato dei pescatori che accusano i politici locali di non avere a cuore le sorti della nostra città evidentemente affermano i rappresentanti dei due comitati Marsala a politici che hanno a cuore le sorti della loro città tanto da spingere e battersi per avere le autorizzazioni necessarie in tempo la stessa cosa non può dirsi dei politici locali i due comitati non fanno sconti a nessuno soprattutto al presidente della regione il giorese Rosario Crocetta che ha siglato l'accordo di programma per la realizzazione del mega porto turistico di Marsala con oltre mille posti barca ed in conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alle 21 con 10 domande 10 il nostro ospite è Don Angelo Strazzanti parroco di Regina Pagis le repriche sono previste alla mezzanotte domenica prossima alle 18 ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità ed eccoci seconda parte del telegiornale che apriamo parlandovi dell'incontro internazionale geloi alla pinacoteca comunale dal titolo la Sicilia terra antica di utopie sono intervenuti i rappresentanti delle maggiori università italiane ed europee una due giorni dedicata alla Sicilia alla storia che ha vissuto la Sicilia moltissimo tempo fa gloriosa storia che ha coinvolto anche in prima persona e in prima battuta Gela è importante per il nostro territorio per ricordare per rivivere per avere un quadro sempre presente di quello che noi siamo stati perché solo attraverso la ricerca possiamo andare avanti e questo noi cerchiamo di fare come organizzazione di acquaria cerchiamo di divulgare sempre e comunque la cultura Su quale periodo storico si è concentrata la sua ricerca e qual è il momento storico che l'ha appassionata di più? La passione in genere è per tutta la storia greca perché altrimenti il nostro lavoro non si potrebbe fare senza la passione ed è anche in qualche maniera il motivo per cui noi siamo qui per la seconda volta perché è la seconda edizione di Geloi e siamo felici e siamo anche motivati proprio dalla passione perché non c'è un'università qui eppure vede che siamo docenti universitari sia italiani che stranieri insieme siamo venuti a Gela, abbiamo scelto proprio Gela invitati dalle varie associazioni proprio per passione e per portare anche a casa delle persone di cui studiamo la storia, la loro storia e le nostre ricerche I greci hanno scelto la Sicilia e Gela in particolare come punto di riferimento Gela è stata davvero una città gloriosa 2700 anni fa, dalla fondazione ad oggi sono cambiate tantissime cose come si è evoluta la storia da allora? Che cosa è rimasto secondo lei di quel mondo antico e glorioso in questa terra? La Gela ha avuto una storia abbastanza breve ma fu ricostruita come terra nuova Eraclea da Federico II e era anche un'utopia e oggi c'è di nuovo ma di recente Gela Geloi I e adesso Geloi II rappresenta davvero un punto di riferimento della storia di Gela migliaia di anni fa ma dovrebbe essere un punto di partenza per una nuova era Noi abbiamo una grande storia una grande storia che ha avuto influenza non solo sulla Sicilia ma anche per buona parte della storia d'Occidente perché alla fine i riferimenti della storia greca e della Sicilia sono il fondamento della cultura europea quindi la presa di coscienza di questo elemento e di questo fatto Costruiamo il futuro in una città che cambia dalla rassegnazione al progetto per una nuova economia sociale è il titolo del convegno promosso dalla diocesi di Piazza del Medina tramite l'osservatorio pastorale di Gela fortemente voluto dal vescovo Rosario Gisana che si terrà venerdì 29 aprile alle 17 presso l'auditorium dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela l'osservatorio pastorale cittadino composto da laici impegnati con una significativa esperienza di animazione sociale provenienti da tutte le parrocchie gelesi è presieduto dal vicario foranio Michele Mattina ed è stato costituito in supporto al servizio del vescovo con la missione di sostenerlo nella sua azione pastorale semplicemente straordinario il giovane pianista giolese Alberto Ferro ieri sera al teatro comunale Eschilo ha incantato ha eseguito per la sua città gli stessi spartiti che lo vedranno impegnato a maggio al Queen Elizabeth Competition di Bruxelles uno dei più prestigiosi concorsi internazionali ha suonato tra gli altri brani di Chopin e Liste Qual è lo spartito a cui sei maggiormente legato? Più che spartito direi compositore diciamo che sto approfondendo la musica russa appunto nelle esecuzioni di compositori cioè di composizioni di grandi maestri come Sergei Rachmaninov, Dmitry Shostakovich, Sergei Prokofiev sono molto legato a questa musica sicuramente anche grazie al mio maestro che mi ha trasmesso la passione Adesso condividi con noi un sogno nel cassetto Non lo vorrei dire però spero ecco non per forza diciamo di vincere il Queen Elizabeth perché sarebbe veramente un sogno però spero di dare il massimo e di ottenere tanta visibilità E chissà magari di raccontare in musica attraverso una composizione tua questa tua esperienza chi lo sa? Beh ancora non ho pensato diciamo a fare il compositore perché ci vuole tanto tempo e ispirazione però mi sto dedicando appunto ai concerti come esecutore slash interprete però può capitare magari che in futuro mi dedicherò anche alla composizione Quanta sicilianità c'è in Alberto Ferro pianista in giro per il mondo? La sicilianità io penso sia simile cioè dal punto di vista musicale alla musicalità nel vero senso della parola siamo molto calorosi ci lasciamo andare proprio l'interpretazione Cosa ti ha dato e cosa ti ha tolto la musica in questi anni? Non mi ha tolto niente sicuramente mi ha dato non ho mai rinunciato al mio mestiere cerco sempre appunto di migliorare e di trasmettere la mia passione per la musica verso tutti L'iniziativa di risera è stata promossa dalla situazione perfetta Letizia il ricavato sarà devoluto al progetto Music Lab Giovanni Di Geronimo per creare un laboratorio musicale nella scuola di un quartiere gelese particolare come quello di Albani Rocella Si darà a Caltanissetta i prossimi 6-7-8 maggio il quarto corso base per diventare clown di corsia il progetto formativo è organizzato dalla associazione VIP Viviamo in Positivo federata con VIP Italia Ollus per informazioni ci sono due numeri telefonici 328-88-29948 e 328-9560273 c'è anche una pagina Facebook ed un sito internet all'indirizzo vipcaltanissetta.it La pagina dello spettacolo è ustica per 35 anni ti hanno nascosto la verità il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela sono tre gli orari 17.30 19.30 e 21.30 e sabato 30 aprile alle 21 sarà replicato lo spettacolo Attenti a quei due con Guglielmo Greco Emanuele Giammusso e Lori Ardora abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni Grazie a tutti Grazie a tutti